Davanti all'ingresso del Museo Correr una targa ricorda un avvenimento avvenuto nel 1807. Per far posto alla celebre conosciuta ala napoleonica venne abbattuta, venne distrutta la chiesa di San Gemeniano del San Sovino. A dirla tutta non piaceva ai veneziani come chiesa perché presentava degli evidenti errori di progettazione anche solo nella facciata. Però a discolpa del San Sovino possiamo dire che era impegnato in cantieri ben più importanti come all'interno del Palazzo Ducale. La chiesa di San Gemeniano non fu la prima ad essere distrutta. Infatti la chiesa di San Gemeniano e Mena venne distrutta nel XII secolo. Questa chiesa era stata voluta dall'esarca di Ravenna nel VI secolo.